Sfida 2 per la guida alle prossime amministrative nel comune di Campli. Da una parte c'è Federico Agostinelli che nell'ultima amministrazione cittadina guidata dall'ex sindaco Pietro Quaresimale, ora in Regione, ha ricoperto il ruolo prima di assessore e poi quello di consigliere comunale. Dall'altra Maurizio Di Stefano, che in passato è stato vice sindaco della cittadina Farnese. Dunque, pur nella natura civica dei due schieramenti, si ricompone a Campli una sorta di contrapposizione classica. Tra centrodestra, con la lista Tutto Campli guidata da Agostinelli, e quella di centrosinistra. Con la lista Ricostruiamo Campli di Di Stefano. Un percorso iniziato nel 2009 come consigliere di opposizione, proseguito poi nel 2014, dove sono stato nominato dal sindaco Quaresimale come assessore urbanistica e bilancio, consigliere provinciale di opposizione due anni fa, nel 2017, e ho sentito proprio il momento giusto per esprimere questa candidatura a sindaco, sostenuto da un gruppo di persone che mi danno fiducia, da tanti cittadini, una voglia che ho a 36 anni di mettere a disposizione tutto quello che è il mio bagaglio di esperienza politica, esperienza amministrativa della città di Campli. Il mondo della politica non l'ho mai abbandonato, nel senso che io sono un appassionato di politica e quindi ho sempre svolto attività in questo ambito. Sono stato vice sindaco di questo comune dal 2009 al 2014, un gruppo di amici, di persone, di giovani stanno puntando su di me, mi hanno spinto, mi stanno sostenendo affinché io mi candidassi, cosa che poi è avvenuta, e quindi insomma l'impegno è proprio quello civico, di mettersi a disposizione con una lista civica di persone giovani, competenti, per portare un profondo rinnovamento e cambiamento nel comune di Campli. Questo è quello che vogliamo fare e stiamo vedendo che i cittadini camplesi stanno apprezzando questo nostro progetto.